Numero 12, Shalom, Arenda, Erizzetto e Reggianetto. Con il numero 13, con i gruppi e i gruppi per tanti. Con il numero 102, Alessandra, Gugliano e Tino, Averetti. Con il numero 12, sella, Dianna, Erizzetto e Nante. Con il numero 100, con i gruppi, sella, Dianna, Erizzetto e Reggianetto. Con il numero 16, con i gruppi, sella, Dianna, Erizzetto, Reggianetto e Reggianetto. Di Gagliano 18, Urizzetto, è un numero 1, essa qua. Gugliano 18, Urizzetto e Reggianetto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.